Credo che ci sia ancora molto lavoro per dare una sensazione di quello che è capitato nell'ultimo anno in questa azienda qui. È un'azienda che ha avuto una trasformazione fondamentale, lo si vede dai prodotti, dalla qualità, dalla tecnologia che siamo capaci di offrire al mercato, però tra la percezione, quindi l'immagine e la realtà ancora c'è un gap che va colmato, quindi invito tutti quanti quantomeno a toccare, a entrare nel prodotto, a provare le nostre vetture perché è capitato qualcosa di molto importante in questa azienda. La domanda in Europa ci aiuta, nel senso che la crescita della domanda in generale su tutti i mercati ci sta aiutando, ci dà un pochino di vento in poppa, però quello che ci ha sorpreso è la performance di vetture come la Leon e come la Ibiza. La Leon in particolare è un prodotto che ha avuto un successo incredibile e che ci ha dato fiducia nel progetto della Tega che è una vettura che si situa a quel livello, in quella fascia di prezzo e siamo ottimisti di portare questa Formula Leon nel mondo delle SUV, credo che la macchina funzionerà. Portiamo un bel design, portiamo una grande qualità ai massimi del gruppo Volkswagen, sono prodotti molto accessibili e nel caso di vetture come Leon e soprattutto con la Tega portiamo un prodotto molto fruibile a una clientela molto importante. C'è ancora ovviamente da lavorare sull'immagine della marca ma questo ce lo prendiamo come compito. Diciamo che nei prossimi 18 mesi noi avremo, non preso la Tega, quattro novità di prodotto, quindi altre tre, che è la maggiore offensiva di prodotto che abbiamo mai avuto nella storia dell'azienda, per questo che siamo ottimisti di poter mostrare dei numeri positivi anche nel futuro, nei prossimi due o tre anni. Vi posso dire che l'anno prossimo usciranno Ibiza, che è una macchina eccezionale, vi posso dire che stiamo lavorando su un fratellino della Tega, un'altra vettura molto interessante, quindi c'è movimento da noi.